Il calcio d'estate è sempre ricco di sorprese. Mercoledì pomeriggio all'Esseneto si sono affrontate in un galoppo congiunto l'Akragas di Serie D e il Mazzara di eccellenza. Quest'ultima è l'ex mazzarese, una gara che è servita per fare un primo bilancio dopo quasi tre settimane di preparazione e di carichi di lavoro. Sul campo la compagina mazzarese si è imposta con il risultato di 0-1. Questa ultima scomadra, Mazzara, ha giocato un calcio abbastanza tonico ed è apparso più avanti nella preparazione atletica dal momento che ha dato parecchio filo da torcere ai giocatori biancazzurri, i quali si sono visti nella metà campo avversario con qualche tiro e qualche azione pericolosa solo nella seconda parte della gara, che ha coinciso anche con il momento in cui hanno preso gol in contropiede con Gustavo Maia. L'allenamento congiunto, il prossimo, con le città di Gela è in programma per sabato 12 agosto, però a partire dalle ore 16. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Mister, al di là del risultato che ci può stare, che agregas hai visto oggi in amichevole contro il Mazzara? Personalmente a me è un agregas che è piaciuto molto perché abbiamo riproposto molte cose di quelle che abbiamo provato in settimana, poi il risultato in queste amichevole estive, io non mi lascio sorprendere, non mi lascio impressionare, assolutamente no. Ho visto delle cose molto belle, soprattutto la cosa che mi fa più felice è averle viste sia nel primo che nel secondo tempo. A che punto è la preparazione atletica? Per ora abbiamo carichi molto importanti, però dobbiamo proseguire. Ho visto la brillantezza naturalmente in alcuni soggetti che hanno caratteristiche diverse rispetto ad altri. Ovviamente gente invece che ha una costituzione diversa avrà bisogno di più tempo. Mercato aperto, arriverà qualcun altro a dar manforte all'agregas? No, io credo che per il momento va bene così, non so se faremo qualcosa, forse una cosa ancora, ma probabilmente invece restiamo quelli che siamo. Al di là della sconfitta in amichevole contro il Mazzara, chi ha caratteristiche ha visto il DS Beppe Camarata? Beh, come ti dicevo per l'amichevole precedente, queste sono gare importanti per mettere i minuti. La squadra si vede che è ancora pesante sulle gambe, però l'importante è vedere che la squadra tenta sempre di giocare. Non si gioca a caso, si cerca sempre la giocata. Oggi abbiamo incontrato una buona Mazzarese, una squadra costruita bene, però sono soddisfatto della prova della squadra. Sarete ancora sul mercato? L'agregas farà mercato? Ma come ti ho detto tre giorni fa siamo sempre vigili sul mercato. Stiamo aspettando la fine di queste amichevole, avremo anche un po' più tempo, visto che hanno slittato le date di Coppa Italia e campionato. Perciò penso che prima della Coppa Italia faremo altre due amichevoli, compresa quella di sabato con il Gela e poi tireremo le somme. Direttore Strano, le sue considerazioni al termine della partita amichevole contro il Mazzara. Ha vinto la squadra giallo-blu? Sì, ha vinto la squadra giallo-blu, è stata una partita vera, è stata una partita con dettami importanti. Abbiamo visto sciollinare il gioco da ambo le parti. Naturalmente, come diceva il buon Mr. Coppa, ci sono delle spaccettature molto importanti. Abbiamo fatto dei dettami di gioco importanti e abbiamo incontrato una squadra che dirà la sua nel campionato di eccellenza del Girone A. Cosa hai visto di buono e invece cosa non hai visto di meno buono in questa partita? Tu sai benissimo che tecnicamente preferisco far parlare le mie mansioni. Io oggi ho visto una squadra che già lavora da gruppo, che già segue i dettami di Mr. Coppa. Abbiamo visto delle punizioni in livello inattivo molto importanti, con degli schemi. Naturalmente l'assemblaggio di 22 giocatori non è facile, perché ricordiamoci che l'unico confermato, anzi sono due, credo, sono Cipolla e Mannina. Quindi c'è stata tutta una revolution e tutti dei giocatori che stanno apprendendo un'altra metodologia di gioco che non era quella dell'anno scorso. Quindi io posso dire che l'unica cosa che mi può dispiacere è anche giocando così in un allenamento congiunto e il risultato di 0-1. Però diciamo che onore al Mazzara che ha giocato una dignitosa partita, che è stato veramente un degno avversario. Anche oggi tanto pubblico sugli spalti a seguire la Lovacragas. Sì, io sono dito l'altra volta nel ringraziare sia la Curva Sud che il parterre della tribuna alle mie spalle, lo rifaccio e dico sempre Forza Agragas.